Narrativa per grandi o per piccoli, il libro che da grande mi ha fatto crescere e me l'avevo letto da bambino era Vacanze nell'isola dei Gabbiani di Asten Lindgren, che è l'autrice di Pipi Calzellucci. Eh certo, grande alleata. Una grande alleata mia. Quando mi dicono come si fa a far leggere i ragazzi, dico la mia esperienza, basta avere un padre che ti dice non leggere. Non leggere, non leggere, a mio papà non piaceva che leggessi, diceva ma va in giro. E ti ricco la torcia sotto il ventola. Leggevo, nascosto, Vacanze nell'isola dei Gabbiani, lui mi diceva esci, 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 ma lui non capiva, poi forse spero che l'ha capito dopo, ma non capiva che io ero già fuori, io non ero nella stanza, ero con pelle, seduto con Ciorven, seduto al molo, con i piedi sull'isola dei Gabbiani a guardare il mio cagnone. E questo libro che mi ha fatto diventare grande, che ho riapprezzato e riletto, perché i libri vanno riletti e riscoperti. Grazie mille, grazie. Vi ritroveremo in questi giorni.